Buongiorno comandante, buongiorno a tutti, mi dà un aggiornamento della vostra posizione per favore? Allora al momento ci troviamo a 125 miglia dalle coste calapre e a circa un miglio dal limite star delle acque greche. Mi dà conferma che avete già iniziato lo schema di ricerca assegnato? Sì, è affermativo, abbiamo già iniziato le operazioni di ricerca secondo lo schema che ci è stato comunicato. Avete già preso contatti con gli altri assetti aeronavali presenti in aria? Sì, sì, abbiamo già preso contatti con assetti navali, con la Cialifama 2.8, con anni mercantili e anche con assetti aerei di Frontex. Al momento ci sono avvistamenti? Sì, al momento abbiamo avvistato il target, l'imbarcazione è semisommessa. In questi minuti i nostri uomini con il RIB stanno dirigendo in corrispondenza dell'imbarcazione per verificare la presenza di eventuali superstiti. Quindi al momento attuale non avete avvistato alcune superstite? No, allo stato attuale no. Allora ci aggiorniamo ogni 30 primi. Ok, va benissimo, ricevuto. Ok, a dopo allora, buon lavoro. Grazie anche voi, buon lavoro. Grazie a tutti.